ciao clicchini e clicchine benvenuti in questo nuovo video super richiesto di eating sounds con un po' di whispery è domenica sono le 14 e 11 in questo momento e ho tanta fame quindi mi fate compagnia mentre pranzo e chiacchieriamo mi anticipo non tantissimo perché allora so che vi piace il mio whispering a me invece gli eating sounds piacciono senza chiacchiere però per far contenti un po' tutti ho pensato di mangiare e chiacchierare poco poco mi dispiace per la mentola del pc e mi dispiace se anche in questo video destra e sinistra risulteranno diciamo invertite come parti ma ho fatto diverse prove prima di iniziare a registrare e non riesco a capire cioè io il microfono l'ho sempre usato così e cioè non riesco a capire perché sì mi sembrano invertiti anche facendo la prova al contrario cioè invertendo il microfono quindi non capisco allora le patatine sono tipo fredde perché prima di impostare tutto ci ho messo un bel po' non so come sistemarmi i capelli sono veramente brutti oggi non li posso vedere che fame era da un bel po' che non mangiavo mac e infatti mi fanno un po' ridere i commenti di quelle persone che guardano spesso i miei video in cui mangio roba del mcdonald o del burger king mi scrivono oh ma tu mangi sempre mcdonald no ragazzi che per una volta che lo mangio magari mi capita di fare un video ogni tot mese mi capita passano un minimo diverse settimane comunque come quando mi capitava tempo fa sotto i video show and tell di ricevere commenti tipo ma tu stai sempre a comprare cose no è che per una volta che le compro ci faccio il video cioè un video non rappresenta la quotidianità di quella persona non mi sembra una cosa difficile da capire però vabbè vediamo un po' ecco con la sinistra sarà un problema non riesco wow ho paura di dare colpi forse prova a fare uno scambio perché le nuggets sono facili da mangiare anche con la sinistra mentre le patatine no che disastro aiuto Fiorella ti pentirai di questa forchettata ma io vorrei chiedere consiglio ad altri colleghi che fanno video di eating sounds cioè come vi vorrei avere un confronto con voi su come vi posizionate per essere comodi perché io sono scomodissima in questo momento anche perché ho paura di dare colpi a cose e poi devo tagliare tutto se sentite voi ci sono i vigili in giardino tra l'altro ho messo questo maglione che è abbastanza invernale anche se non ho nulla sotto perché ho freddo fuori si muore di caldo c'è un sole pazzesco è strano autunno aiuto come si fa? queste forchettine sono abbastanza inutili comunque io inizio sempre dalle patatine quando mangiate al mac o comunque cose del mac che bibita prendete di solito io ho sempre coca cola zero non perché voglia zero calorie rispetto a tutte le calorie che ci sono nel resto delle cose ma perché da quando bevo la coca cola zero ormai tanti anni anche se la bevo raramente perché non ne vado pazza in realtà la prendo solo a mac quella classica la trovo eccessivamente dolce non riesco più a berla non mi piace più e quella del mac mi piace tantissimo perché in realtà è anacquata se ci fate caso quando ve la mettono scende 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 acqua coca acqua coca acqua coca c'è tanta acqua nella coca cola e mi piace un sacco proprio perché è così proprio perché è così è volata in terra una patatina ci penserà a Bea più tardi allora ho preso le righe e le nuggets e il panino con l'hamburger non mi ricordo neanche qual è però il crispy mac bag mi pare non mi dico ma perché non mi dico sosta bbq pisi immancabile salsa bbq per le nuggets devo masticare a destra perché ieri a pranzo ho mangiato gli spazzol con la panna e il salmone e mi si è appiccicato uno spazzol qui sul palato vicino ai denti e mi sono bruciata malamente e pessimi capelli pessimi proprio visto che nell'ultimo video mi avete detto che c'è il volume basso lo ho aumentato un po' ho aumentato un po' questo il gain però comunque vi consiglio sempre di usare cuffie o regolari e mettere il volume alto tanto sto sempre attenta a a non mettere le pubblicità in mezzo al video cosa che prima capitava indipendentemente da me forse hanno risolto questo problema e poi i rumori forti li taglio cioè eventuali rumori forti li taglio perché tanto mi riguardo tutto il video prima di caricarlo quando lo erito mamma mia questi capelli cioè assurdo abbiate pazienza struccatissimo ovviamente anche oggi ma mi piace riprodurre la realtà cioè nel senso se voi mangiaste con me adesso io sarei esattamente così poi per qualche video prossimamente sarò sicuramente truccata però non oggi è scomodissimo mangiare le patatine così come forse ricorderete il mio panino preferito del mac è il macchicken però quando prendo le nuggets non prendo il porno e il panino perché sarebbe più o meno la stessa cosa mi crollano i capelli non so proprio come metterli basta me li voglio strappare bello è che se continuo a fare così poi me li mangio anche capito? il problema è quello no, sono proprio capelli osceni oggi proprio non è giornata che fame non riesco più a pungere le patatine vediamo eh c'è o c'è nei capelli ora queste le finisco perché mi sono proprio rotta ecco si è sfondata la scatola delle patatine è fantastico e ora guardate il cheddar ha ammorbidito la scatola ecco il cosino c'è una voragine nella scatola aiuto la prossima volta le patatine le mangio fuori dal video che ne dite? sbatto dappertutto voglio liberarmi di queste patatine finite le patatine finite le patatine finisco le mangi azzurro poi passiamo al panino sperando di non fare altri disastri non so come risolvere il problema della ventola se uso questo microfono il pc è per forza attivo fatemi sapere però se vi da fastidio se per voi non c'è problema cioè se per voi non è un problema posso anche lasciare tutto com'è molte persone addirittura mi hanno detto che anzi è a suo modo rilassante perché è un rumore bianco cioè che poi io lo sento forte perché lo sento anche al di là di quello che prende il microfono bisogna vedere poi com'è in fase di editi qui è un rumore buona salsa barbeco paninozzo e lo voglio vedere bene come facciamo? vediamo un po' peccone ovipom lascia spi 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 Grazie a tutti. 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 Ciao.